E così ci dice il Signore, guardiamo in avanti, verso di Lui, verso il Suo amore, verso la Sua grandezza, e non giriamoci indietro, non guardiamo il passato, non guardiamo le difficoltà, i problemi, cose che abbiamo lasciato, tante cose, guardiamo in avanti, e ai miei sacerdoti e ai nostri sacerdoti dico, guardiamo in avanti, non guardiamo, non siamo legati al passato, alle cose avute, alle cose perdute, ma guardiamo al rapporto con il Signore, a tutto il bene che il Signore fa attraverso di noi, questi sacerdoti sul campo, sul terreno di lavoro, sono vicini a tante sofferenze, a tante povertà, a tanti drammi, guardiamo avanti, non giriamoci indietro, non guardiamo il passato, guardiamo il Signore, il Signore che viene incontro a noi, come ha fatto San Pio, lo ha guardato, si è innamorato di Cristo, non giriamoci alle cose che lasciamo, ma andiamo a vedere al dono più grande che il Signore ci fa, così, col cuore pieno di fiducia, di grazia, chiediamo a Dio di guardare a Lui, di privilegiarlo, di avere una preferenza a Lui più che tutte le cose, e preghiamo per le emergenze in cui viviamo, col cuore pieno di fiducia, sia lodato Gesù Cristo. Grazie.